Nuovo amore per la conduttrice e attrice, che ha sofferto molto per la fine della relazione con l'allenatore della Juve. Vai, vai Max Allegri. Ambra Angiolini ha definitivamente archiviato il rapporto con l'ex calciatore oggi allenatore della Juventus. Un rapporto durato quasi cinque anni e terminato, a quanto pare, con l'ombra di un tradimento da parte di lui. Una fine che lo scorso ottobre ha fatto parecchio clamore. Con l'arrivo della primavera l'ex ragazza di Nonela Rai ha voltato pagina e oggi è stata beccata in teneri atteggiamenti con un altro uomo. L'attrice e conduttrice, nonché nuova giurata di X Factor, è stata pizzicata dai paparazzi di Diva e Donna Roma, alle prese con un dolce aperitivo. Nelle immagini Ambra scherza e sorride al suo cavaliere, al quale subito dopo dà un bacio appassionato. Al momento è ignota l'identità del nuovo fidanzato dell'Angiolini. Nelle foto i due sembrano molto presi l'uno dall'altra e dopo una chiacchierata occhi negli occhi si dirigono verso l'abitazione dell'artista. A varcare per prima il portone è lei, poi arriva lui che porta due pesanti confezioni di acqua minerale. Un gesto gentile che mostra già una certa quotidianità per la nuova coppia. Per ora Ambra Angiolini non ha proferito parola sulla questione, la 45enne è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Stavolta sarà quella giusta?